La PSB Irpinia Fuzzal è partita alla volta di Policoro. La squadra di coach Luigi Battistone domani affronterà alle ore 14 la formazione veneta della VIP Tombolo nella prima semifinale della Final Four di Coppa Italia di Serie A2. Al Pala Ercole le Lupe a Chiotte vanno a caccia dell'ennesima impresa. Le Lupe vanno a caccia anche del primo trofeo nazionale della loro storia dopo aver vinto quello dei gironi contro la Mezzia 3-2 al Pala Cardito. Le altre due compagini in lotta per la manifestazione tricolore sono le Umbre dell'Atletico Foligno e le Toscane della Pelletterie Calcio 5. Il trainer degli Irpini confida nella vena del trio Meravigliau composto da Fabiana Veczione, Anna Lucia Braccia e da Brenda Moreira. L'asso carioca che nella passata stagione ha trascinato Bitonto alla massima serie è pronto a regalarsi un altro record e perché no un altro trofeo. Il club per la trasferta in terra lucana ha inserito sul proprio profilo Facebook le modalità di accesso gratuito per assistere alla partita e dei link da completare per tutti gli appassionati. Il conto alla rovescia è partito, l'Irpinia Futsal non sarà da sola, Silvana Maccia, Giusy Pugliese, Anna Lucia Braccia, Brenda Moreira, Fabiana Veczione sono chiamate all'ennesima impresa, sono chiamate a portare l'Irpinia sul tetto d'Italia.